Netto nodo ai sindacati dei portuali genovesi al trasferimento del polo chimico a San Pier d'Arena. Ci opporremo in tutti i modi, in pericolo alla sicurezza e al lavoro. Ribassi del 34,2% per le bollette del gas. Nomisma, a breve, un ulteriore 10% in meno. I costi energetici per le famiglie segnano comunque da un anno un incremento del 36%. In ripresa ordine attività del terziario in Italia, a gennaio l'indice PMI Servizi sale di più di un punto a 51,2% oltre le attese e ai massimi dai sei mesi. Forti tensioni USA-Cina, il Pentagono accusa Pechino di spiare una base missilistica nel Montana con un pallone sonda. A Chieva l'arma aereo prima del vertice con la commissione UE. Migliorano le condizioni di lavoro dei marittimi, l'ICS commenta il rapporto ILO. C'è più consapevolezza. Italia tra gli stati di bandiera con tutti gli indicatori positivi.